Politano, parliamo di te per un attimo perché sei cresciuto a mio avviso in maniera esponenziale quest'anno. Certo che questo ruolo ti sacrifica moltissimo, sei molto sacrificato perché devi coprire tutta la fascia. Ultimamente magari stai patendo più dell'elecito, ci sta in un intero campionato, però se potessi tornare indietro giocheresti più da esterno alto. Ti faccio subito una domanda. Quello comunque lo decide il mister dove farmi giocare, adesso stiamo facendo questo modulo 4-4-2, quindi dovrò fare un po' più terzino che all'esterno d'attacco, però va bene così. Diciamo che è molta copertura, ti chiede l'allenatore come è giusto che sia nel 4-4-2, è chiaro che poi diventi meno lucido sulla tre quarti. Sì, è normale comunque in un modulo così e magari quando sei lì davanti sei un po' meno lucido perché comunque fare sempre avanti e indietro è molto faticoso. Però questa è una stagione, possiamo definire, della tua consacrazione perché ripeto, a mio avviso sei cresciuto tantissimo. Tu come la giudichi? Sì, sì, è così. Sono cresciuto molto anche grazie al mister e sono molto contento di come sta andando, però spero che vada ancora meglio. Matteo, venendo a questioni generali, c'è un po' lo spettro della scorsa stagione che ha legge su questo Pescara? Trovi qualche analogia oppure no? No, ma non penso. Penso che stiamo facendo un ottimo campionato perché ci sono molte squadre forti, soprattutto che giocano molto dietro. Quindi è un po' più difficile l'anno scorso, diciamo. Scorso c'erano più squadre che giocavano a pallone, mentre quest'anno è difficile trovare squadre che giocano a pallone. Veniamo al Catania, ritroverai di fronte il tuo amico Maniero, che sensazione hai? Bene, Catania è una squadra fortissima, secondo me adesso a gennaio si è rinforzata davvero tanto, ha ricostruito una squadra nuova, diciamo, perché hanno comprato 11-12 giocatori di categoria, fra cui Maniero, essendo me uno degli attaccanti, in Serie B adesso più forti che ci siano. Quindi insomma il Pescara ha sbagliato a privarsene? No, non sta a me decidere. Cosa è cambiato senza Maniero questo Pescara? Beh, abbiamo perso sicuramente, è un ottimo giocatore, però comunque è stato rimpiazzato dalla società, ha comprato comunque due attaccanti di livello come Pettinari e Sanzovini, quindi penso che siamo tornati forti come eravamo prima. Senti, in generale appunto è un momento un po' delicato, diciamo francamente due punti nelle ultime quattro partite, sembra anche piuttosto involuto il Pescara. Che cosa succede? È solo un calo secondo te fisiologico? Oppure c'è dell'altro? No, penso che comunque è anche un po' di sfortuna, perché comunque ad esempio in casa con il Cittadella secondo me nel primo tempo abbiamo fatto un'ottima partita e potremmo chiudere il primo tempo sicuramente in vantaggio, invece siamo andati sotto, poi allora non c'è stata una grandissima reazione. Alla Dina pur soffrendo però comunque il primo tempo avevamo avuto il rigore, sicuramente se facciamo gol sarebbe cambiata la partita. Quindi secondo me dobbiamo continuare così e sperare di fare meglio di come abbiamo fatto sabato. Senti, Baroni in conferenza stampa in settimana ha detto che il Pescara doveva cercare di fare quello che ha fatto fino a qualche settimana fa, insomma non un 4-2-4 sbilanciato ma un vero e proprio 4-4-2 con gli esterni un po' più stretti. Sì, adesso il Ministro ci ha detto a noi esterni comunque di stare un po' più stretti invece di stare larghi. Cioè le cose dovrebbero andare meglio secondo te, insomma, ci si copre di più, c'è più equilibrio? Sì, sicuramente c'è quel equilibrio perché comunque con gli esterni larghi magari quando perdevamo palla ci facciamo trovare un po' scoperti. Quindi adesso il Ministro ha deciso di metterci più stretti e adesso vedremo sabato quando andranno le cose. Quindi diciamo che farai più il terzino adesso? No, vabbè, sempre l'esterno però magari darò una mano ancora di più. Chiudiamo così, c'è da sfatare anche il tabù adriatico. Sarebbe ora, comunque torniamo alla vittoria in casa perché ormai è parecchie giornate che non la troviamo, quindi sabato ce la metteremo tutta. E quindi con Maniero come andrà a finire? Bene, speriamo. Vi saluterete prima della partita? Prima, dopo, speriamo che non fa gol. Cioè in campo avversari? Certo, in campo sempre avversari.